Ed eccoci alla pagina sportiva, qualche problema a centrocampo in attacco per il Catania in vista della gara di domenica contro la Cavese che si disputerà a Lentini, a Palermo, Boscaglia deve trovare il sostituto di Almici per la trasferta di Foggia. Vediamo il servizio. Il quarto posto nel mirino, come quattro, sono i risultati utili consecutivi, da cui arriva il Catania. La squadra di Peppe Raffaele vive un periodo particolarmente positivo dopo quello difficile legato ai contagi Covid e alle tante assenze. Nonché domenica, nella sfida contro la Cavese, l'allenatore avrà un'ampia possibilità di scelta, ma almeno il clima di fiducia è decisamente migliorato. Il problema principale è a centrocampo, dove l'allenatore rossazzurro è a corto di uomini. Sono solo due disponibili, Biondi e Welbeck, perché Maldonato è ancora squalificato, Izco e Dalloglio non riusciranno a recuperare. L'opzione per Raffaele è quella di adattare Albertini o far tornare Rosaia. Gli ultimi allenamenti settimanali saranno fondamentali anche per altri rientri, come quello di Tonucci in difesa, così come Piccolo davanti, ma l'ex cremonese dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Ma i problemi non mancano nemmeno in attacco, dove si è fermato Reginaldo, le sue condizioni sono da verificare, ma sicuramente salterà la sfida tra Catania e Cavese, che si giocherà domenica alle 15 a Lentini. E quella dell'Angelino Nobile è una soluzione che il Catania ha avuto autorizzata sino al termine della stagione. La società rossazzurro, insomma, ha la facoltà di utilizzare l'impianto di Lentini per le partite interne, ma nulla vieta. Il club rossazzurro ritorna dal massimino appena le condizioni del Manterboso lo consentiranno e il club conta di poterlo fare già prima della pausa natalizia in occasione del match casalingo con il Catanzaro in programma mercoledì 23 dicembre. A Palermo, invece, l'entusiasmo per gli ultimi risultati positivi dei Rosa è stato smorzato dal pareggio interno con la Viterbese. Adesso c'è la trasferta, tutt'altro che agevole di Foggia, dove Boscaglia non potrà contare sull'infortunata al Mici. Il giocatore domani si sottoporrà alla risonanza magnetica per capire l'entità del danno al ginocchio. Al suo posto, Boscaglia potrebbe schierare a cardio e inserire Doda, che però non gioca da quasi due mesi. Niente di grave, invece, per Rauti. Anche lui, uscito malconcio dalla sfida con la Viterbese.